Anche quest'anno l'amministrazione comunale dedica oltre la giornata del 27, la giornata dedicata alla memoria, un mese di gennaio lo dedichiamo all'approfondimento e all'ascolto di storie tratte dal periodo delle deportazioni, del nazifascismo. Come sempre proponiamo sia due spettacoli teatrali qui all'editorio Le Fornaci, sia la presentazione del libro in aula consigliare. Sono tutti eventi che in qualche modo cercheranno di approfondire o raccontare ancora pezzi di storia non abbastanza conosciuti e lo facciamo credendo che questo sia un modo per coltivare una memoria viva e fare in modo anche di scuotere in qualche modo le nostre coscienze dal racconto di storie. Noi dedicheremo due appuntamenti, il primo è il 20 gennaio, sempre alle 21 e 15, come solitamente facciamo. È una nostra produzione e lo spettacolo si intitola S, che è proprio il personaggio di cui narra la storia, ovvero uno dei tre grandi gerarchi nazisti, uno dei bracci armati di Hitler, colui che aiutò a scrivere il Mein Kampf e che ebbe una storia molto curiosa, ovvero si paracadutò in Inghilterra per trattare una pace separata, fu incarcerato e finì nel carcere di Spandau per tutto il resto della sua vita, fino a quando, il giorno prima di essere liberato, si suscitò. Quindi un personaggio molto misterioso e molto interessante. E poi continuiamo il 28 con un altro lavoro, un'altra tradizione delle Fornaci, che è quello di uno spettacolo che coinvolge gli allievi sia dei corsi di teatro, sia serale che adolescenti, per la messa in scena di una nuova drammaturgia che ogni anno dedichiamo a un aspetto della giornata alla memoria. Quest'anno, il 28 gennaio alle 21 e 15, ci sarà Don't Cry For Me Argentina e lo spettacolo si concentrerà soprattutto sulla fuga dei gerarchi nazisti nelle fasi finali della guerra. Quindi quest'anno andremo a esplorare un po' anche quello che è successo in quel determinato periodo storico.